Ha deciso di lasciare il lavoro da operaio in una ditta edile e diventare al tempo stesso un rapinatore di banche. Giovanni Di Benedetto, 38 anni, di Misano Adriatico, in provincia di Rimini, è accusato di aver rapinato due istituti di credito in altre tanti mesi. Il primo colpo lo ha messo a segno il 13 gennaio scorso nella filiale di Gabice Mare, della Casa di Risparmio di Ravenna, dove alle 10.45 è entrato simulando il possesso di un'arma da fuoco e intimando al cassiere di consegnare tutto il denaro contante di circa 4.000 euro. La seconda rapina invece è avvenuta alle ore 16 nella filiale di Gradara, della banca di credito cooperativo, dove è riuscito a fuggire con 9.400 euro, ma questa volta minacciando il cassiere dicendogli di avere in tasca del liquido corrosivo, dell'acido insomma. In entrambi i casi il 38enne era entrato prima come cliente, con la scusa di dover aprire un conto o di richiedere informazioni su tasse da pagare, ma solo con l'obiettivo di fare un sopralluogo. Al momento della rapina, poi, entrava col volto travisato da un cappellino, questi occhiali da sole, e barba lunga fatta crescere per l'occasione. I carabinieri di Gabice, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Pesaro, sono riusciti a rintracciarlo grazie alle telecamere di videosorveglianza, che nelle vicinanze di una delle banche prese di mira hanno ripreso il passaggio di un'auto e la sua targa. In base a questa, i militari sono riusciti a risalire a Di Benedetto, incensurato, sposato e con figli. La vettura, in realtà, è intestata a un familiare dell'uomo che era ignaro di quello che faceva il vicino parente. Inoltre, l'attività di indagine ha permesso di constatare che durante la prima rapina, avvenuta quando ancora faceva l'operaio, il 38enne è risultato essere assente sul posto di lavoro. Fondamentali sono state anche le testimonianze degli impiegati, che fra le varie descrizioni si sono ricordati che il rapinatore aveva detto «vengo oltre», tipica espressione di chi abita in zona. È stato arrestato, sottoposto agli arresti nomiciliari, quindi in misura cautelare, e davanti al GIP ha confessato di aver portato a termine entrambe le rapine. A conferma di quanto è ipotizzato dai carabinieri, nella Casa dell'Uomo sono state rinvenute ulteriori prove, ma del denaro nessuna traccia. Il 38enne ha detto di averlo speso per pagare dei debiti. Il denaro non è stato rinvenuto in occasione delle perquisizioni, però le perquisizioni hanno consentito di aggiungere qualche altro tassello utile alle indagini, e quindi ai fini probatori della sua colpevolezza, in quanto ci ha consentito ai carabinieri di recuperare gli indumenti che utilizzava o in fase del sopralluogo o, come gli occhiali, in entrambe le rapine, e quindi altri tasselli e indizi utili alle indagini in corso, che sono tutt'ora in corso.